Un cordiale buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del TG6 che apriamo con un focus su Cina, Myanmar e Vietnam, quello organizzato dal centro estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo che si è tenuto questa mattina a Pescara presso la sede della Camera di Commercio di Pescara con l'obiettivo di informare le imprese abruzzesi sulle opportunità commerciali offerte dai tre paesi e prospettare canali preferenziali di assistenza a coloro che già vi operano il servizio. Cosa chiedono i paesi dell'Asia, in particolare la Cina, cosa chiede al mercato abruzzese, alle Camere di Commercio abruzzese? Allora l'Abruzzo in Cina può avere un enorme successo perché nella bilancia commerciale tra Italia e Cina i principali settori che vengono richiesti dal mercato cinese sono il fashion, la meccanica di precisione e i prodotti food and beverage, i prodotti di agricoltura. In questo l'Abruzzo è un posto leader, infatti abbiamo visto che qui ci sono dei rappresentanti della società di Cecco presenti in Cina, cioè rappresentanti della fama meccanica presenti anche in Cina e sono anche importanti case vinicole come Marramiero, per nominare alcune, o Zaccanini, per nominare altri che sono presenti nel nostro mercato. Dico nostro mercato perché ahimè vivo da 15 anni lì in Cina. Però non basta perché le opportunità che un miliardo e mezzo di cinesi possono dare alle società abruzzesi sono veramente tante. Parliamo soprattutto di una tecnologia abruzzese che potrebbe essere esportata nei paesi asiatici, ma non solo. Non solo, c'è l'agri-food, c'è la farmaceutica, c'è la chimica, la meccanica, tutti i nostri prodotti di eccellenza. Loro ovviamente sono interessati a tutto questo. Lo consideriamo un primo step per un ulteriore approfondimento che faremo come Centro-Est e Camera di Commercio in autunno dove ospiteremo dei buyer provenienti da questi paesi e da altri paesi, sempre sulla via della seta, che visiteranno soprattutto le nostre aziende dell'acroalimentare. Oggi le esportazioni rappresentano per noi un punto di riferimento per le grandi industrie, parliamo dell'automotive, del farmaceutico, ma le piccole e medie ancora riescono a rapportarsi, nonostante c'è una forte richiesta. Per questo, peraltro, abbiamo sottoscritto due anni fa un accordo con l'ICE che ci ha permesso di attivare una serie di iniziative, 50 fiere, 500 espositori, fiere svolte in 15 paesi extra Unione Europea, ma dobbiamo incrementare. Su questo la Regione Abruzzo, il mio assessorato, sta impegnando risorse consistenti e spero che nel giro di un biennio portiamo dei risultati apprezzabili, soprattutto in questi mercati dove c'è una forte espansione del benessere e quindi l'Abruzzo può essere presente. Si arricchisce l'offerta per i viaggiatori in transito presso l'aeroporto d'Abruzzo, dove questa mattina c'è stata l'apertura delle attività commerciali nella nuova area duty free dello Scalo. Si punta a nuovi voli e anche ad un ritorno al Pescara Torino. Sì, avevamo un grande bisogno di un centro commerciale vero all'interno dei gate, cioè passati controlli, che consentisse ai nostri passeggeri, che oramai sono 350 mila stranieri e 350 mila italiani, di poter portare via un qualcosa dell'Abruzzo, un pezzetto di Abruzzo, che sia un salume, una bottiglia di vino, di spumante, una bottiglia d'olio e questa specie di duty free shop che abbiamo fatto qui dentro permette finalmente di portare via un po' d'Abruzzo a un prezzo equo. Immaginate un inglese che porta via una bottiglia di vino montepulciano di alta qualità a 10 euro o poco più e che se la dovesse comprare a Londra spenderebbe 50, 60, 70 euro. Immaginatevi anche psicologicamente cosa significa per la nostra regione in termini di promozione della qualità e del turismo. Sono veramente felice, questa parte dell'aeroporto è diventata un'altra cosa, adesso aprirà anche il secondo bar, aperto il duty dei liquori, apriranno anche boutique e venderanno oggetti, souvenir e probabilmente anche borse e pelletterie. Avremo anche un'aspettativa personale, nel senso che finalmente uno che passa mezz'ora qui dentro aspettando un aereo e peraltro se non ha nulla da fare finalmente non si annoia. Essendo stata comperata a Blue Air la compagnia, noi dobbiamo andare per forza a un altro partner e questo partner su Torino deve essere qualcuno che vola su Torino. L'Italia abbiamo provato in tutti i modi, non riusciamo a convincerla a fare questo volo, forse per mancanza di aerei, suppongo. Stiamo vedendo con tutte le compagnie. Credo che alla fine, se sarà necessario, passata la summer, riapriremo questo discorso perfino con Ryanair se sarà necessario. È chiaro che Torino ci deve stare, che noi abbiamo il più grande stabilimento FCA, cioè ex Fiat, d'Italia. Questo è bene che la gente lo sappia. Noi siamo più grandi di Torino per quanto riguarda l'automotive e abbiamo il diritto a dovere, se la compagnia aerei all'Italia fosse una vera compagnia nazionale, di avere questo volo. Purtroppo non è così perché altrimenti avremmo già risolto il problema. Sul Gran Sasso in arrivo un emendamento al decreto sblocca cantieri che prevede una struttura commissariale definita insieme al presidente della regione Abruzzo. Il MEF sta ancora stabilendo le coperture, ma dopo il scontato che si trovi non possiamo permetterci la chiusura del traforo. Lo ha spiegato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, al termine della riunione di maggioranza sullo sblocca cantieri in Senato. L'emendamento sarà a firma dei relatori del provvedimento e sarà presentato per l'Aula. Le coperture dovrebbero ammontare intorno ai, dice Toninelli, 150-180 milioni di euro. Si potrebbe iniziare con 20-30 milioni quest'anno, poi gli altri nei prossimi anni. Ha concluso il ministro. Gianluca Ragneri, avezzanese, candidato alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle, è stato l'unico abruzzese a sfiorare l'approdo all'Europarlamento con quasi 27 mila preferenze che però non sono state sufficienti. L'Abruzzo non è riuscito a portare alcun rappresentante a Bruxelles. Ascoltiamo proprio le parole di Gianluca Ragneri. Gianluca Ragneri, ex consigliere regionale Movimento 5 Stelle, ha sfiorato il Parlamento europeo. Non ce l'ha fatta per 4 mila voti, ma con il lavoro svolto in campagna elettorale, ha ottenuto quasi 16 mila preferenze in Abruzzo e conquistato consensi anche in Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise. Qual è la situazione in generale del Movimento? Abbiamo assistito ad un brusco crollo dei consensi? Io non posso dire che nella circoscrizione sud ci sia stato un brusco crollo dei consensi. In realtà noi in circoscrizione sud, cioè Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, abbiamo ottenuto. Cioè siamo al 30%. Per quanto riguarda l'altra parte dell'Italia, sì, c'è stato un calo. Ora di questo calo si dovranno verificare le cause e trarre le conseguenze. Qual è la situazione del Movimento 5 Stelle in Abruzzo? A me il Movimento 5 Stelle in Abruzzo sembra sano. Tutto sommato si sono presi gli stessi voti che si sono presi alle politiche, più o meno. Siamo sempre intorno al 30%, almeno così mi sembra. Per cui in realtà non è cambiato granché rispetto a un anno fa. Se dei cambiamenti ci sono stati, se delle diversità ci sono, non sono da ricercare in Abruzzo. Certo, l'Abruzzo sconta anche una campagna regionale che non ha ottenuto i risultati sperati, quindi si potrebbe avere la sensazione che il Movimento non ci sia più in Abruzzo, che sia in sofferenza in Abruzzo, ma io credo che non sia così. Il prefetto della provincia di Pescara, la dottoressa Gerardina Basilicata, ha nominato oggi con un decreto il commissario prefettizio, vice prefetto dottor Adolfo Valente, per la gestione provvisoria del comune di Torre dei Passeri. La nomina si è resa necessaria a seguito dell'annullamento delle elezioni a causa del mancato raggiungimento del quorum di votanti richiesto dalla legge nel caso in cui per le elezioni del sindaco si sia presentata solamente una lista come è avvenuto a Torre dei Passeri. E per Paolo Martinelli, 39 anni, tecnologo alimentare e allevatore di Farindola, il nuovo presidente dell'Associazione regionale Allevatori, il servizio di Vestina News. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli allevatori che mi hanno dato fiducia. Gli obiettivi sono tanti, sicuramente il principale obiettivo è quello di cambiare un po' la mentalità del nostro comparto e quindi mi piacerebbe non parlare più di allevatori, semplici allevatori, ma di imprenditori zootecnici. Lavoreremo su più fronti per dare nuovi servizi e dar possibilità agli nostri imprenditori zootecnici di potenziare i propri allevamenti, possibilmente attrarre anche quelle soddisfazioni professionali ed economiche che un po' tutti ci aspettiamo. Non ci dimentichiamo che ormai sono anni che coltiviamo senza trarre benefici perché i nostri raccolti puntualmente vengono distrutti dalla fauna selvatica e poi siamo costretti a subire delle prese in giro con dei rimborsi veramente irrisori, con il regime de minimis, questo non è più possibile perché abbiamo voglia di rilanciare questo comparto ma per rilanciare questo comparto c'è bisogno assolutamente che ci venga dato una mano consistente anche dalla regione e confidiamo che il nuovo assessore all'agricoltura sia attento a queste esigenze di noi allevatori, imprenditori zootecnici. Appuntamento importante del 30 maggio all'Aquila, ci sarà un seminario molto importante dove appunto parleremo di come abbiamo intenzione di cambiare gli allevamenti in Abruzzo. Cronaca adesso è morto all'ospedale Mazzini di Teramo, l'uomo di 90 anni che lo scorso 24 maggio era caduto da un balcone al primo piano di un'abitazione a Silvi Marina. Soccorso dai sanitari, l'anziano era stato subito trasferito con l'elicottero del 118 all'ospedale Teramano. Inizialmente le sue condizioni non erano apparse particolarmente gravi, dell'accaduto si sono occupati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Atri. Cambiamo argomento adesso, dal mese di luglio sarà ripristinata la colonia estiva del comune di Teramo con novità importanti. Il progetto durerà tre anni ed è sostenuto dalla fondazione Tercas. Andranno in vacanza 90 bambini dai 6 agli 11 anni che oltre al mare potranno visitare anche borghe antichi e monumenti. Tania Bonnici, Castelli. A partire dal mese di luglio, comune di Teramo e fondazione Tercas garantiranno la colonia estiva a 90 bambini dai 6 agli 11 anni che si ripeterà per il prossimo triennio. Ogni bimbo potrà godere di 15 giorni di vacanza al mare ma anche in montagna, oltre ad escursioni culturali nei borghi di Castelli e Civitella, è una giornata finale all'Aquapark. Allora, una bella iniziativa a favore dei bambini. Assolutamente, da quest'anno riparte la colonia estiva che è garantita per i prossimi tre anni. Devo ringraziare la fondazione Tercas che ci ha permesso di rimodulare dei fondi non spesi nel 2015 ed ecco la colonia riparte per i bimbi dai 6 agli 11 anni. Ci saranno due turni e in tutto saranno coinvolti 90 bimbi. L'innovazione questa volta è data dal fatto che la colonia non sarà solo marina, ci saranno anche altre giornate all'interno della colonia stessa. Si andrà a Castelli, a Civitella e poi porteremo anche i bimbi all'Aquapark che è sempre divertente. La novità del progetto colonia estiva del comune di Teramo è la durata che sarà di tre anni grazie al finanziamento di 18 mila euro della fondazione Tercas. L'iniziativa mira a garantire ai bambini giornate di vacanze ma anche la scoperta delle bellezze del territorio per poter arricchire le proprie conoscenze. Un'iniziativa che non si fermerà solo a quest'anno ma durerà tre anni, tre anni di vacanza per i bimbi che non possono permetterselo. Questa è forse la novità più importante di questo progetto che la fondazione ha finanziato con molto piacere perché evidenzia la volontà da parte dell'amministrazione di programmare nel medio periodo. Quindi per tre anni le fasce più deboli, quelle alle quali la fondazione è particolarmente in questo periodo interessata quindi ragazzi in età scolare, a questi ragazzi verranno concesse delle vacanze, tra virgolette come dicevamo per rilassarsi sicuramente dagli impegni scolastici ma anche per conoscere quello che è il territorio. Quindi vacanza ma anche cultura. Ma anche cultura, un binomio secondo me molto importante, quindi concedere loro una opportunità di vacanza perché anche quella è un'opportunità e a contempo un'opportunità di conoscenza del territorio, di analisi del territorio e poi la possibilità di essere in gruppo. Anche questo secondo noi è molto importante perché purtroppo riteniamo che ci sia una grande difficoltà da parte dei ragazzi di vivere nelle comunità, nei gruppi e questo sicuramente è un'esperienza importante. La rete di scuole Music Art Vestina, nata per creare sinergia, per favorire e implementare iniziative ed esperienze artistico musicali e che comprende gli istituti scolastici dell'area Vestina, ieri sera ha portato in scena il concerto dal titolo L'Acqua, Fonte e Maestra di Vita. Vediamo. La rete Music Art Vestina che comprende scuole secondarie di primo grado, del territorio vestino e anche oltre. In particolare ci sono gli istituti comprensivi di Penne, Paratore, Penne e Mario Giardini, l'Istituto di istruzione superiore, Licei, Luca da Penne e Mario dei Fiori, l'Istituto comprensivo Loretta Prutino, l'Istituto comprensivo Cepagatti e l'Istituto comprensivo di Civitella Casanova. Quindi un'ansambla di istituti che ha nelle finalità progettuali quella di promuovere la cultura musicale, e la pratica musicale. Il tema che è stato il fil rouge di questo concerto è l'acqua e le sue potenzialità e declinazioni. Un coro unico, che è una novità per quest'anno, formato dai ragazzi delle scuole primarie e degli stessi istituti comprensivi che durante l'anno scolastico frequentano i corsi musicali del DM8 2011. Si articola in un corso di musica nella scuola primaria delle classi terze fino a arrivare alle classi quinte. Nella scuola primaria è un corso musicale che si svolge in orario curriculare mattutino, mentre il corso di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado è un corso che si svolge in orario exacurriculare pomeridiano. Nell'orchestra dell'ansamble Vestina abbiamo una varietà di strumenti, ben 11 strumenti rappresentati dai fiati come trombe e corni per passare fino ai clarinetti e sassofoni e anche gli archi con i violini fino ad arrivare alle chitarre, le percussioni e le tastiere. Insomma, i pianoforti, una grande varietà di strumenti per la nostra insamble. Adesso apriamo la pagina dello sport. Partiamo con la serie B perché va a Leonardo Mancuso il premio di miglior bianco-azzurro per la stagione 2018-2019 che per il Delfino si è appena conclusa. L'attaccante miglior realizzatore stagionale del Pescara con i suoi 19 centri in campionato ha parlato ai nostri microfoni della sua stagione e anche dell'amara eliminazione dai play-off di domenica scorsa contro il Verona. Il servizio di Andrea Costantini. Leonardo Mancuso è il miglior bianco-azzurro, però la storia di questo premio è che solitamente chi lo riceve poi va via da Pescara. Siamo anche in questo caso a questo punto della situazione? Ma in questo momento c'è ancora un po' di rammarico per l'uscita dai play-off e poi ho finito il mio anno e mezzo di prestito e vedremo quale sarà il mio futuro. In questo momento non ci sto veramente pensando perché innanzitutto devo ancora metabolizzare e poi mi voglio godere un po' di relax perché comunque è stata un po' di vacanza che è stata una stagione veramente intensa. Poi quello che dirà il mercato lo vedremo più avanti. Fa ancora male no? Un po' sì perché comunque quando ci arrivi che sei lì ci credi e noi ci credevamo tanto. Eravamo vicini e poi perderlo per un rigore magari fa ancora più male. Il questo non ha funzionato, è stata la paura a tradirvi perché a Verona avete fatto una bella partita. Poi si è rivista la squadra un po' condizionata forse delle ultime gare di campionato. Ma credo che a Verona sì abbiamo fatto veramente un'ottima partita. Nella parità di ritorno forse un po' più contratti lo siamo stati rispetto all'andata. Però credo comunque la parità l'avevamo interpretata anche abbastanza bene. Abbiamo avuto qualche occasione anche per andare in vantaggio. e poi penso che siano stati i dettagli a fare la differenza. Il ricordo migliore qual è? La rete a cui sei più legato? Magari la rete più bella? Sì, sono arrivato come esterno e poi c'è stata questa opportunità di giocare più al centro all'attacco che è un ruolo che mi piace molto perché comunque nasco attaccante. Poi dove sono stato chiamato in causa in questi due anni ho cercato sempre di dare il massimo in qualsiasi ruolo. Quest'anno sono arrivati anche tanti gol e sicuramente è un motivo di orgoglio. Ho tanti ricordi di questi gol. Ripenso al primo magari a Cremona che ero entrato anche dalla panchina quindi è stato un gol all'ultimo secondo decisivo ma poi ce ne sono stati veramente tanti. Penso alla tripletta di Salerno che è stata speciale e ogni gol me lo porterò sempre nel cuore. Non voglio dire che tu andrai via da Pescara però di questi due anni cosa ti porti dentro di questa città? Ma tutto perché mi sono trovato benissimo da subito con la città, con le persone, con l'ambiente dello spogliatoio. Sono stati due anni intensi, sia positivi, un po' meno positivi e quindi poi mi porterò veramente dentro tutto. Adesso parliamo di ciclismo perché l'Abruzzo fa bis due vittorie di tappa per i due abruzzesi al Giro d'Italia. Domenica Dario Cataldo a Como e ieri Giulio Ciccone a Ponte di Legno rimettono la nostra regione al centro del panorama ciclistico internazionale. Abruzzo, regione assolutamente protagonista al Giro d'Italia. Se alla vigilia dalla partenza della Corsa Rosa le attenzioni erano rivolte sulla Vasto L'Aquila e la Tortoreto Pesaro del giorno successivo che avrebbero interessato il nostro territorio in tre giorni e due frazioni, sono Dario Cataldo e Giulio Ciccone a riscrivere un pezzo importante del ciclismo abruzzese. Nella settimana più calda, la più difficile del Giro, i due squilli degli unici due cavalieri d'Abruzzo fanno tornare le due ruote al centro dei riflettori. Domenica in una frazione su un tracciato molto simile a quello del Giro di Lombardia è stato Cataldo autore di un'azione bellissima insieme a Mattia Cataneo dell'Androni. Partita dopo meno di 10 km dal via, un vantaggio ampio e conservato per tutta la giornata ma che quando i big hanno aumentato il forcing si stava assottigliando in maniera preoccupante. Per il corridore di Miglianico, ex Sky, le braccia alzate sul traguardo erano state una sorta di risarcimento per aver dovuto fare gioco di squadra a beneficio del capitano Miguel Angel Lopez qualche giorno prima, sacrificando un po' le sue aspirazioni. La vittoria in una volata a due è stato un sigillo che deve aver dato nel giorno di riposo del lunedì ulteriore spinta a Giulio Ciccone per la tappa che tutti aspettavano, quella del Mortirolo ma senza il Gavia, cancellato per via della neve. Il ragazzo della Trek Segafredo, in maglia azzurra di miglior scalatore, dopo aver lavorato nelle frazioni passate per Bauke e Mollema, quando avuto la via libera come ieri ha dimostrato che ormai è a livello dei più forti. Un'azione che nella giornata terribile dal punto di vista meteo poteva essere rovinata da Jan Irt, compagno di squadra alla stana di Cataldo, a ruota perché da dietro rimontava il suo capitano. Giulio si arrabbia, più volte gli chiede il sostegno per giocarsi la vittoria, fa ampi gesti che con la melina potrebbero non conservare il vantaggio preso fino a quel momento, fino all'arrivo di Ponte di Legno. Quando Giulio tira un sospiro di sollievo, ne ha di più e scaraventa gli occhiali come fosse una liberazione dopo tanto freddo e tanta fatica. Esulta una regione intera per due ragazzi ormai veri campioni di questo sport, esulta anche la squadra, la pedale teate che le ha accolti da piccoli per poi ritrovarseli a battagliare e vincere nella corsa più prestigiosa d'Italia. Domenica il Giro si chiude con la Crono di Verona, terreno adatto più per Dario che per Giulio, che invece avrà le ultime durissime rampe del Giro. C'è una maglia da difendere, quella di Scallatore più forte della Carovana. Tommaso Giovannini è uno dei migliori atleti nel beach tennis, disciplina nella quale è stato numero uno al mondo fino a poche settimane fa. Il 23enne di Lugo di Romagna ha partecipato alla quarta edizione del Trofeo Città di Giulianova, svoltosi nello scorso weekend. Lo ascoltiamo. Tommaso Giovannini hai fatto un balzo in avanti in classifica che ti ha visto e ti vede ancora tra i primissimi numero tre, numero due adesso e la coppia numero uno al mondo insieme al tuo compagno storico di squadra Nikita Burmakin. Sì, questo momento qui è speciale per me, sono stato numero uno al mondo anch'io per un mese e mezzo a febbraio e marzo, poi dopo abbiamo giocato contro gli e Nikita in una finale a reunion, purtroppo ho perso, quindi ho perso la posizione numero uno del ranking, adesso gli e Nikita stiamo giocando assieme, abbiamo grandi progetti e se siamo numero uno e numero due vuol dire che forse ce lo stiamo meritando, stiamo lavorando tantissimo, io non studio neanche più, ho deciso di concentrarmi unicamente sul beach tennis, poi in un futuro chissà, magari riprenderò anche gli studi, però ora questo è il mio obiettivo principale. Sei legatissimo all'Abruzzo pur non essendo abruzzesi. Esattamente, il presidente Francesco Sarti mi diede fiducia e mi tesserò nella sua associazione mi sembra cinque anni fa, quando ancora ero in quarta categoria nella classifica fit, grazie anche al mio maestro dei tempi Nicola Gambi e da allora fino adesso sono rimasto legatissimo all'Abruzzo, a Francesco. Tornare qua per me è sempre una gioia, ho tanti amici e questo torneo qui in particolare mi ha sempre regalato gioie incredibili, infatti è l'unico torneo che non ho mai perso. Chiusura con un sogno che si chiama titolo mondiale a questo punto? Sì, quello è il sogno più grande di ogni giocatore di beach tennis, ovviamente la classifica fa un gran piacere e però penso sia seconda al titolo mondiale, che anche se ho già vinto il titolo di Aruba l'anno scorso lo vedo ancora molto più importante. Questo era anche il nostro ultimo servizio, vi ricordo che tutti i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. prossima edizione del nostro telegiornale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.